Gentili telespettatori, buona giornata. Sarebbe pronto lo strappo, l'ascissione nella Lega salviniana. La fronda dei nordisti, quelli che vogliono tornare alla Lega di Bossi, quella di Roma Ladrona, Lampolla, esiste solo il Nord, che la chiamiamo Padania, l'Italia non esiste. Ecco, vorrebbero tornare a quella Lega di una volta, anche perché la Lega nazionale ha fallito, cioè la Lega nazionale voleva essere un'imitazione di Fratelli d'Italia, ma voi come sapete la gente vota l'originale, non vota una imitazione fatta male, perché Salvini sentirgli dire prima agli italiani, quando conosciamo il suo passato, suo e degli altri che sono al governo con lui, quel prima agli italiani ha sempre un po' stonato, non era prima la Padania, Padania is not Italy, sotto il Po non conta niente, i video dove lui saltella e canta contro i napoletani, insomma, realmente quel prima agli italiani ha lasciato sempre un po', dice, ma prima agli italiani, ma in che senso? Se sempre prima è stata la Padania, il nord, in effetti quel progetto è fallito perché al prima gli italiani, gli italiani non ci hanno creduto, hanno votato l'originale, quindi un partito che voleva essere patriottico, nazionalista, quindi allarghiamo i confini dalla Padania, i confini diventano improvvisamente italiani, era arrivato con un voto di opinione al 34-35% stando al Ministero dell'Interno e poi il tracollo per la politica che abbiamo visto fare a questo signore negli ultimi due anni, la gente è scappata via a gambe levate, ma proprio correndo, gli è rimasto poco più dell'8% perché alle elezioni aveva un 8,8, 8,86, oggi i sondaggi lo danno all'8,1, 8,2, al prossimo sondaggio potremmo vedere una Lega al 7%, pertanto quando i leghisti dicono ma così andiamo al 2% con questo capo politico hanno ragione, naturalmente i leghisti, quelli puri dicono vabbè, tanto per andare al 2%, 2-4% tanto vale che cambiamo Salvini, 2% per 2% che mettiamo un'altra persona, anche perché un partito del Nord come quello di una volta di Bossi in Canottiera è un partito dall'1,5, 1,8%, ecco, insomma la Lega, la nuova Lega, quella che vorrebbe staccarsi da Salvini, vorrebbe ritornare a quella che era prima, in sintesi abbiamo fallito, come Lega nazionale torniamo a fare la Lega del Nord Italia, oggi ci sarà il Consiglio federale, sul tavolo la rosa dei ministri che poi decide la Meloni, non certo il Consiglio federale della Lega con l'8%, mentre Bossi affida a Ciocca e Grimoldi il compito di occuparsi del nuovo Comitato del Nord, subito un congresso perché questo Comitato del Nord alla fine l'idea è quella di fare una nuova Lega e questa è l'idea di Bossi, fondatore della vecchia Lega che la vuole tirar fuori di nuovo, con l'obiettivo di costruire rapidamente la squadra di governo, invece riferito a Salvini, una squadra di governo più efficace possibile e fatta di ministri politici, mettere gli amichetti al governo, questo vuol dire fatta di ministri politici. Salvini affronta così oggi la prova interna del Consiglio federale che ovviamente inneggiano a Salvini, Salvini, Matteo, Matteo, è ovvio è un partito padronale come vi dicevo, ma viene lanciata questa fronda del Nord guidata proprio dal fondatore Umberto Bossi che dice Salvini non sbagli ancora le sue mosse, sembra l'avviso mandato al segretario leghista dal Comitato del Nord, cioè dicono Salvini non sbagli ancora le sue mosse, quello che vogliono dire è che tutti dicono che non ne fa una giusta, poi vi racconterò oggi altre che ne ha fatte Salvini per una sua superficialità estrema, ve le racconto loro nei prossimi video, oggi è una giornata che non ci sono tante notizie di politica. Nella Lega c'è un problema reale di rappresentanza democratica e di rappresentatività del territorio. Non è una banalità, afferma il deputato uscente Paolo Grimoldi che chiede subito un congresso della Lega in Lombardia e che si torni a discutere e confrontarsi per recuperare le ragioni per cui la Lega è stata fondata, difendere le ragioni del Nord. Se non ci ricordiamo da dove veniamo non c'è futuro. E' bravo il Paolo Grimoldi, hai ragione, voi siete gli unici che non vi siete ricordati perché gli italiani se lo sono ricordato esattamente chi era la Lega, Salvini, Giorgetti, Borghi e tutti gli altri. Gli italiani lo sanno bene chi sono queste persone e infatti non l'hanno più votate. C'è stato quel voto di opinione che li ha portati al 35% perché Salvini sembrava il salvatore dei confini italiani, ma realmente ha ragione Paolo Grimoldi. Bisogna ricordare da dove veniamo, perfetto, ricordatevi da dove venite e tornate da dove siete venuti. Tornate nel vostro Nord e state all'interno di queste regioni. Lui dice se non ci ricordiamo da dove veniamo non c'è futuro. Esatto, ha assolutamente ragione. E poi spiega come è nato il suo coinvolgimento nel progetto di Comitato del Nord lanciato dal fondatore della Lega Bossi. Ha cominciato a chiamarmi a metà agosto, ci siamo sentiti molte volte e abbiamo condiviso la preoccupazione per la deriva centralista. Preoccupazione per la politica di Salvini la chiamano la deriva centralista. Poi Umberto mi ha chiamato a gemonio e mi ha affidato il compito di gestire gli aspetti amministrativi. Tra le contestazioni c'è dunque la gestione accentrata. Non è possibile che in un movimento autonomista tutte le decisioni vengano prese dal centro. Vorrei capire perché i Veneti non possono scegliersi il segretario e lo stesso dicasi per gli altri. Un problema, dice, di cui hanno la responsabilità i vertici della Lega. Volete cambiare segretario? Dovete chiederlo a Molinari, a Romeo, ai governatori. Non so se anche loro sono davvero soddisfatti e se non hanno richieste di cambiamento. Di certo, se andiamo avanti così, presto la Rega arriverà al 4%. Ma no, il 4% no, 2%. E riguardo a Salvini, che sembra non intenzionato a cambiare idea, Grimoldi dice che Salvini la cambierà. La Lega non è un uomo solo al comando. Però, se questo è il partito che si è fondato Salvini, c'è proprio uno scontro di visione. Salvini lo reputa un partito padronale suo, mentre gli altri dicono che la Lega non è sua. La Lega ha una sua storia. Vedremo come andrà a finire questa storia. Grazie a tutti e arrivederci.